Parte 2 Si è fermato il video Perché appunto io ho un cellulare Non ho mica i potenti mezzi della Rai Per esprimere il mio punto di vista Si diceva appunto I bottegai I bottegai Se mi chiedono una mascherina Ancora Dopo due mesi Non vedranno più un centesimo E probabilmente farò anche una lista La lista di Arya Stark Scrivendomi Anche se necessario Da chi non andare a comprare più nemmeno Quando è finito tutto questo Perché ricordati una cosa Fratello e se lo ricordino tutti i miei connazionali Niente nell'universo è per sempre Tutto è transitorio Questa assurdità Che ci siamo creati Tutti quanti Questa realtà che ci siamo creati Questa assurda realtà che ci siamo creati Avrà una fine E verranno presentati i conti Al conte E a tutti quanti quelli che stanno Lì A prendere 15.000 20.000 euro al mese Ora sono già due mesi Visto che arriviamo al 18 di maggio Prenderanno tre mesi di stipendio Vedendosi una volta ogni 15 giorni Per far finta di litigare tra di loro Ma chi vogliono prendere per il culo Chi vogliono prendere per il culo Maggioranza, opposizione, governo Si sono messi d'accordo tutti Non è mai esistita in questo paese Una classe dirigente Che avesse a cuore la povera gente Io non voterò mai più Andate a fanculo Non delego La mia vita Nella mia libertà a nessuno Ad mai ora Grazie a tutti